ciao a tutti dal salutatore grandissima sorpresa eccomi qui mi trovo con il grande Mirko Pontesilli saranno isolani eh bello bello e saranno isolani speriamo bene speriamo bene io ho fatto questa esperienza ci hanno sbattuto una settimana a mezza una foresta e mo durranno essere nominati quattro che andranno con l'isola dei famosi in base ai voti dall'otto gennaio sei vota cazzo dobbiamo dobbiamo votare 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 perché noi lo vogliamo la io ti regalo la marina del salutatore e con questa tu vincerai no l'isola dei famosi no si ma prima sono isolani e poi questa ma questa la posso portare sull'isola te la puoi portare sull'isola se fai tutto quello che vuoi quando c'è bisogno accendi e spegne la lucina come si accende e spegne qua ecco qui dopo te lo se me la fanno portare giù non mi la porto sull'isola cristiana questa è una promessa ti ho detto la promessa davanti a tutto il web salutiamo tutti i tuoi fan i fan miei i tuoi i futuri no i futuri ah quelli che ci saranno futuri all'isola dei famosi ti vogliamo Mirko Pontesilli e mai ciao belli mi ravvalo ecco qui ci salviamo ciao 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 ciao